Allora, su questa oggi facciamo il biondo diamante, c'è i capelli, una lunghezza importante e molto delicata e facile, e il suo problema, tra i paesi, era quello che in questi anni non è mai rimasta soddisfatta qui in Italia, perché oggi è una sfida per noi, poi vediamo in un stato finale, bene, farla vedere, che bellezza, mi fermate, c'è qui, e la nostra Coco è quella che sarà la protagonista, oggi vi diamo una mission, quella che si metterà in fin di gioco, la carriera. Eccoci, la nostra promessa potente che abbiamo fatto in fase di consulenza e che avevamo fatto un lavoro eccellente. Lo facciamo vedere. Il problema è i capelli fini, fragili e comunque mi dicevi che hai provato tanti parrucchieri e avevi perso un po' la fiducia di andare dai parrucchieri. Non solo un po', completamente. Completamente, il menù. Raccontaci un po' la tua esperienza e se sei rimasta soddisfatta. Di sicuro io sono soddisfattissima, i capelli sono stupendi, era meglio di quello che aspettavo e devo dire che Coco non è solo un parrucchiere, è un artista. Grazie! Sono emozionato, davvero, perché ti meriti praticamente l'eccellenza, quella che vogliamo trasmettere a tutti. Quella che ho ricevuto. Perfetto. Grazie. Grazie a tutti. Grazie Coco. Ciao. 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 Ciao.